Giuseppe Mazzini, l'apostolo del risorgimento. Giuseppe Mazzini è una delle figure più importanti del risorgimento italiano. Nato a Genova nel 1805, fu un patriota, un politico, un giornalista e un filosofo. Il suo pensiero politico era animato da una profonda ispirazione religiosa e da un forte idealismo. Mazzini credeva che l'Italia dovesse essere un'unica nazione repubblicana, libera e indipendente. La giovinezza e gli inizi dell'attività politica. Mazzini studiò giurisprudenza a Genova, ma presto si interessò di politica. Nel 1821 partecipò ai moti liberali che scoppiarono in Italia, ma fu arrestato e condannato all'esilio. Trascorse quindi diversi anni in Svizzera, dove fondò la Giovine Italia, un'associazione segreta che si batteva per l'indipendenza e l'unità dell'Italia. La Giovine Italia un'organizzazione molto importante per il risorgimento italiano. Mazzini riuscì a reclutare migliaia di giovani patrioti, che si impegnarono in azioni di propaganda e in rivolte contro gli stati italiani preunitari. Nel 1834, Mazzini guidò un fallito tentativo di insurrezione a Genova. Fu condannato a morte in contumacia, ma riuscì a fuggire in Francia. Gli anni dell'esilio. Mazzini trascorse la maggior parte della sua vita in esilio. Viaggiò in tutta Europa, fondando organizzazioni segrete per la liberazione dei popoli oppressi. Nel 1848, durante la prima guerra di indipendenza, Mazzini tornò in Italia e partecipò alla rivoluzione milanese. Dopo la sconfitta austriaca, Mazzini fu nominato ministro dell'interno del Regno di Sardegna, ma fu presto costretto a dimettersi a causa delle sue idee repubblicane. Gli ultimi anni. Dopo il fallimento della prima guerra di indipendenza, Mazzini continuò a lottare per l'unità dell'Italia. Nel 1859, partecipò alla seconda guerra di indipendenza, che condusse alla liberazione della Lombardia. Nel 1860, Mazzini appoggiò l'impresa di Garibaldi in Sicilia e nel sud Italia. Dopo l'unità d'Italia, Mazzini continuò a sostenere la causa della Repubblica, ma fu sempre in minoranza. Morì a Pisa nel 1872. L'eredità di Mazzini. Mazzini è considerato uno dei padri della patria italiana. Le sue idee e la sua azione politica contribuirono in maniera decisiva alla formazione dello Stato unitario italiano. Mazzini fu un leader carismatico e un grande oratore. Il suo pensiero politico è ancora oggi oggetto di studio e di dibattito. Il pensiero politico di Mazzini. Il pensiero politico di Mazzini era animato da una profonda ispirazione religiosa e da un forte idealismo. Mazzini credeva che l'Italia dovesse essere un'unica nazione repubblicana, libera e indipendente. La sua visione politica era basata su tre principi fondamentali. La sovranità popolare. Mazzini credeva che la sovranità dovesse appartenere al popolo, che era l'unico legittimo detentore del potere politico. La Repubblica. Mazzini era un convinto sostenitore della Repubblica, che considerava la forma di governo più democratica e progressiva. Il cosmopolitismo. Mazzini credeva che tutti i popoli del mondo avessero il diritto all'indipendenza e all'autodeterminazione. Il contributo di Mazzini al risorgimento. Mazzini fu un protagonista di primo piano del risorgimento italiano. Le sue idee e la sua azione politica contribuirono in maniera decisiva alla formazione dello Stato unitario italiano. Mazzini fu un leader carismatico e un grande oratore. Il suo pensiero politico è ancora oggi oggetto di studio e di dibattito. La figura di Mazzini nella storiografia. La figura di Mazzini è stata oggetto di interpretazioni diverse da parte degli storici. Alcuni lo hanno considerato un visionario, un profeta del risorgimento. Altri lo hanno invece criticato per il suo idealismo irrealistico e per la sua incapacità di comprendere le dinamiche politiche del suo tempo. Nonostante le critiche, Mazzini rimane una figura fondamentale nella storia d'Italia. Il suo pensiero politico ha contribuito a formare l'identità nazionale italiana e il suo esempio continua a ispirare ancora oggi i patrioti di tutto il mondo.